Una battuta, tra i tuoi obiettivi sicuramente salvezza con l'Elas Verona, chissà magari un'ambizione ancora più importante e ti chiede la Coppa d'Africa rientra tra i tuoi obiettivi Sì, spero d'abord di partecipare, come vi ho detto, più di match possibili con l'Elas Verona Per questo primo di settimana, sono molto concentrato per l'Elas Verona, per questo primo di l'Elas Verona, poi c'è vero che la Coppa d'Africa che arriva nel settembre è molto importante anche per me e per tutto il popolo marocco, è qualcosa che ci piace a più, in più andare in un altro paio, al Maroc, sarà una grande pressione per noi, il Maroc, e io voglio fare tutto per partecipare, perché è qualcosa di straordinario fare una Coppa d'Africa nel suo paio, e per questo passa per una buona performance con l'Elas Verona. Spero di partecipare a più partite possibili per questo campionato e sono molto concentrato e per quanto riguarda la Coppa d'Africa sicuramente un obiettivo importante sia per me che per il popolo marocchino, ci sarà sicuramente molta pressione, visto che giocheremo nel nostro paese e farò di tutto per partecipare, ovviamente mi giocherò molto in questa stagione col Verona, dipenderà molto dall'andamento di questa stagione qui all'Elas. Grazie a tutti.